Hakuna Matata ragazzi oggi ci troviamo nel parkour Hakuna Matata quindi raga non si può assolutamente scappare ci troviamo con la canis free crawler devastante questa va dappertutto ragazzi eh questa va veramente dappertutto speriamo sia una gara veramente top non dovrebbe essere troppo difficile almeno così indicavano le istruzioni quindi dovremmo andare via abbastanza sciolti raga eh qua ok perfetto così e siamo primi ciao ragazzi vi saluto a tutti andiamoci involiamo così raga questo sarà da prendere dritto ah no cos'è sta roba ah devo camminare io a cavolo mannaggia 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 via no dovevi atterrare in piedi amico ok anche quello è accaduto cosa devo fare qualcosa che non quadra ragazzi la terza volta è quella buona sempre ce n'è esploso non so cosa sia successo raga ma devo attaccare il paracadute forse si ragazzi what topissima topissima raga top frena che qui crepiamo se no ok molto bene che top va che roba esagerata avanti così adesso siamo tornati con i nostri free crawler devastanti avanti così avanti così raga checkpoint 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 nuovamente per noi poi facciamo così noi abbiamo lasciato le collisioni perché a noi ci piacciono ok anche l'arancione ce l'ha fatta anche noi maledetto dai arancione dritto eh è dritto mi raccomando dritto eh dai avanti eh raga ho capito che devo andare dritto ma grazie a Tornille per la spinta ma c'è il nostro compagnolo qua che è timido e non ce la faceva no no dai 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 non ci credo ok andiamo così allora ciao ragazzi devo passare devo passare io ciao ciao a tutti ciao 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 a tutti ciao 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 ci vediamo fatemi prendere il checkpoint e poi vi potete schiantare no quello è caduto alla fine riperoni amico mio riperoni vada qua vada qua bistarda mamma mia di cattiveria sale su recupera 18 milioni di posizioni e torna e torna nuovamente giù andiamo raga andiamo forza e coraggio andiamo a riagguantare questi e cadono e cadono signori e cadono e andiamo a recuperare una posizione gradino del podio per noi raga gradino del podio e via non ci ferma più nessuno dobbiamo andare a recuperare quei porcellini che sono scappati dinnanzi a noi che purtroppo con le collisioni quando ti ti fermi poi lei è un macello bello bello sto passaggio molto bello e adesso giù così ragazzi occio 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 non ci credo ma non la free crawler cosa ho fatto no 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 siamo calmi guarda qui guarda qui il controllo che abbiamo sul mezzo raga guarda qua che control che gavemo su sto mezzo noi questa è la pasta col tonno che ci fa fare tutte queste acrobazie folli 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 raga ok no 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 mi perdo nei bicchieri d'acqua io ogni volta vabbè bicchiere d'acqua per beastard is kriptonite no guarda 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 ma perché scusa dove devo andare poi ah scende giù di qua ok ok grazie grazie molto gentile lo sai vero che adesso non avrò più pietà di te adesso 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 no maledetto l'avevo mirato puntato solo che poi sto non avevo visto che c'era tutta sta roba no vabbè tanto è caduto da solo il karma l'ha punito ce l'abbiamo ancora dietro è questo ok ok non demorde è il nostro amico allora dobbiamo assolutamente mettere un po' di margine tra noi e lui ok andiamo giù ok ce l'abbiamo fatta raga checkpoint perfetto allora qua ci vuole questo e poi che salvataggio mamma mia ragazzi che colpo di reni facciamo così poi così oh ce l'abbiamo fatta non mi sembra vero il maledetto ha concluso top 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 ce l'abbiamo fatta anche noi avanti così raga avanti avanti come dice di girare qua attorno ok quindi ok qua andiamo giù piano cominciamo a frenare con calma ok perfetto free crawler devastante raga devastante sto mezzo posso il checkpoint il checkpoint signori e ora cosa ci aspetta ah non devo fare nulla prega top 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 10 milioni di like voglio 10 milioni di like non sto facendo niente niente riprendiamo in mano il pad che onde evitare che alla fine magari devo accelerare raga no niente nemmeno la fine oh mamma mia stavo per che colpa al cuore credevo di cadere e failare brutalmente ma qua raga concludiamo concludiamo signori andiamo avanti così la gara per oggi si conclude qua spero vi sia piaciuta veramente tantissimo se fosse così like commento seguitemi su instagram trovate tutti i miei link sotto giù nella descrizione ragazzi quindi attivate la campanellina like a profusione per non perdervi assolutamente nessun nuovo video io vi saluto da gta 5 vado su gta 6 perché ho già la play 5 io adesso qua con tutti questi numeri ogni tanto mi confondo e noi ci vediamo come al solito nel prossimo video ciao Grazie per la visione!